Un po' intimoriti da questa loro presenza addosso al nostro tentativo di giocare la palla e il croce l'hanno riconquistata, giustamente, poi invece l'hanno fatta girare con velocità e con qualità e siamo stati costretti a ricorrere per un'ora di gioco. Quando ci siamo liberati da questo timore abbiamo preso più coraggio, abbiamo provato a fare qualche giocata in ricerca della tre quarti, dell'estro, dell'intuizione della giocata, proprio a anticipare quelli che erano i loro comportamenti e ci abbiamo provato con il vantaggio che doveva essere così anche dall'inizio e che però non l'abbiamo fatto. e per un'ora abbiamo corso e loro hanno giocato a calcio e poi nell'ultima mezz'ora, a contrario, a contrario, ci sono create delle situazioni che la partita poteva essere pareggiata. abbiamo messo qualche errore in questo loro fare col stesso panno di posizionamento ci hanno trovato dei buchi anche abbastanza difficili da capire poi perché si erano creati anche con quello del loro, insomma, però è successo e sono cose che quando poi non riesci a gestire la partita come si dice spesso, non sei tranquillo nelle scelte che fai, poi le cose le fanno gli altri e siccome questi altri le fanno bene ci hanno trovato il contagio.